Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come disattivare completamente Windows Defender ovviamente su tutti i servizi di Windows 10 e Windows 11 ovviamente se lo faccio su Windows 11 è lo stesso metodo anche su Windows 10 quindi in questo caso tu dovresti trovare modifica criteri di gruppo, tu basta che scrivi modifica criteri di gruppo, ti si aprirà così questa schedina, vai su modelli amministrativi, poi vai su componenti di Windows scendi fino a giù fino a trovare Microsoft Defender Antivirus e qui c'è scritto disabilita Microsoft Defender Antivirus ovviamente lo stato è non configurato quindi se ci clicchiamo sopra noi dobbiamo attivare questa cosa e facciamo ok e questo era il primo metodo su come disabilitare Microsoft Defender Antivirus su qualche servizio di criterio su Windows 11 quindi io ovviamente lo tengo non configurato perché a me Windows Defender Antivirus mi serve quindi ora passiamo al secondo metodo, il secondo metodo è quello di andare su Regedit Regedit, ovviamente la R qua mi si è rotta, editor del registro di sistema questo qui, andiamo fino a su fino a trovare ovviamente cercate di aprire la cartella HKEY LOCAL MACHINE poi andare su software scendere fino a giù fino a trovare Microsoft scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella scendiamo fino a giù fino a trovare Windows Defender eccolo qua e ovviamente non a tutti funziona questa cosa io ovviamente a me non funziona questa cosa perché se io adesso vado su Disable Antispyware e il dato di valore da mettere per attivare questa cosa è mettere 1 e faccio ok se a te ha funzionato vuol dire che stai a posto io ovviamente devo arrangiarmi con questo gruppo criteri questo qua di edito criteri di gruppo locali e devo pure arrangiarmi con il terzo metodo che adesso vi farò vedere cosa dovete fare quindi questo era il secondo metodo chiudiamo qua e passiamo direttamente a Windows Defender Firewall andiamo su attiva disattiva Windows Defender Firewall qua puoi mettere disattiva Windows Defender Firewall disattiva Windows Defender Firewall dice scelta non consigliata perché il sistema protettivo del nostro sistema operativo Windows 11 è molto importante quindi puoi disattivarlo direttamente qua sopra oppure se riesco a trovare impostazioni avanzate ed eccolo qua su azione proprietà stato firewall disattivato lo metti su tutti i profili disattivato profilo pubblico disattivato e fai applica e fai ok ovviamente per chi deve disattivare l'antivirus lo deve disattivare se non riesce a scaricare qualche applicazione e mai tenere l'antivirus disattivato per sempre quindi se questo video vi è stato utilissimo su come disattivare completamente l'antivirus Windows Defender sui servizi di Windows 10 o Windows 11 iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao